Devi amare ciò che fai per volerlo fare ogni giorno, mettendo esperienza e passione ad ogni nuova sfida. Perché per essere capaci di rispondere alle vostre chiamate, abbiamo investito per 50 anni nelle mani, teste e cuori di chi come noi ha fatto del lavoro la propria passione e di chi come voi ha scelto di mettere qualità nella propria vita, rendendo più confortevole e sicuro il mondo in cui viviamo. Dago Elettronica. Innovativi per tradizione.